E' nuovamente la sindaca di Montevarchi, Silvia Chiesa e Martini, a tornare a parlare delle criticità all'interno dell'ospedale della Gruccia. Lo ha fatto tramite due post sui social, nei quali mostra con altre tanti video le condizioni in cui versa la struttura. La prima cittadina poi elenca le varie segnalazioni ricevute dai cittadini negli ultimi giorni, dai pazienti che hanno atteso oltre 14 ore per un'ambulanza al pronto soccorso invaso dalle Zanzare. La sala operatoria poi sarebbe stata chiusa, racconta sempre la sindaca, proprio per una bonifica anti-Zanzare per la seconda volta in due settimane. Nel secondo video postato invece, inviato da un cittadino, si nota la presenza di cavi scoperti in sala d'attesa. I video che sto pubblicando, scrive Silvia Chiesa e Martini, hanno lo scopo di rompere la cappa di silenzio e indifferenza della regione dell'Astra nei confronti della Gruccia, per riuscire assieme a dare voce alla nostra sanità che va avanti in questo stato da anni, incurante delle numerose testimonianze di pazienti e laboratori. La funzionalità della Gruccia, conclude, deve essere una priorità per tutti.